Ancora una volta l'antica Ercolano si impone al centro dell'attenzione internazionale grazie a una nuova scoperta, opera di un team di antropologi e ricercatori guidato da Pierpaolo Petrone dell'Università Federico II di Napoli, che da anni studia gli effetti delle eruzioni del Vesuvio sul territorio campano e le popolazioni che lo hanno abitato nel passato. Il New England Journal of Medicine ha infatti pubblicato i risultati di uno studio sui resti di materiale cerebrale rinvenuti in una delle vittime dell'eruzione, il cui scheletro si trova ancora oggi in uno degli ambienti di servizio del Collegio degli Augustali. Allo studio hanno preso parte il direttore del Parco Francesco Sirano insieme al professore Piero Pucci del Change e insieme ai ricercatori dell'Università di Cambridge. L'eruzione, che nel 79 d.C. colpì con balanghe di cenere bollente Ercolano e Pompei, uccidendo all'istante tutti gli abitanti, in poche ore seppelli l'intera area vesuviana fino a 20 km di distanza dal Vesuvio. Negli anni 60, durante gli scavi condotti dall'allora sovrintendente Amedeo Maiuri nella cenere vulcanica, furono rinvenuti in un letto ligneo i resti carbonizzati di un uomo che gli archeologi ritengono fosse il custode del collegio. Recenti indagini sul campo hanno portato poi alla scoperta nel cranio della vittima di materiale vetroso nel quale sono state identificate diverse proteine, acidi e grassi presenti nei tessuti cerebrali e nei capelli umani. La conservazione di tessuto cerebrale è un evento estremamente raro in archeologia, ma è la prima volta in assoluto che vengono scoperti resti umani di cervello vetrificati per effetto del calore prodotto da un'eruzione.